Ci può spiegare l'importanza di questo mese di novembre che è il mese della sensibilizzazione del tumore al polmone? Perché? Il mese è una scusa o meglio un aggancio per sensibilizzare la popolazione nei confronti di quella che è ancora la patologia tumorale che miete più vittime tra i tumori maligni sia nella popolazione maschile che nella popolazione femminile. Si è registrato ultimamente un aumento di questa malattia nella popolazione femminile. Prima era considerata solo una malattia che riguardava la popolazione maschile e oggi non è più così. Il difetto di questa malattia è che purtroppo viene associata in maniera molto stretta al fumo di sigaretta e questo è corretto perché l'85% delle persone affette da tumore al polmone sono o sono stati dei forti fumatori. Di conseguenza c'è quella che viene identificata come la stigmatizzazione della malattia e quindi il paziente viene in qualche modo colpevolizzato perché tu hai fumato, tu hai questa patologia. Questo fa sì che i media siano molto meno interessati o sottolineano molto meno l'importanza di questa patologia proprio perché è legata ad un fattore di rischio che è un vizio. Quindi il mese di sensibilizzazione serve proprio per ricordare i numeri di questa malattia, il fatto che ogni anno muoiono 35.000 persone in Italia solo per il tumore al polmone e per ricordare che molto si può ancora fare in termini di prevenzione primaria, secondaria e in termini di trattamento. Proprio per quanto riguarda i trattamenti, adesso comunque ci sono delle nuove terapie personalizzate, terapie di target. Quanto conoscono i pazienti di tutte queste possibilità? Direi che il livello di conoscenza è buono perché comunque soprattutto tramite internet si riescono a trovare parecchie informazioni e quindi dalla messa in commercio di questi farmaci a bersaglio molecolare la comunicazione c'è stata. Il problema molto spesso è il tipo di informazione che non sempre è puntuale, aggiornato e corretto, quindi il ruolo delle associazioni è proprio di riportare un po' nel binario quelle che sono le informazioni che è giusto che il paziente acquisisca. Quindi quali sono i test da fare, quali sono i test a cui il paziente ha diritto di avere accesso, qual è il significato della lettura dei risultati di questi test e quali centri possono offrire una terapia a bersaglio molecolare che magari non è ancora in commercio ma è già in fase avanzata.